In Belgio, a dieci giorni dagli attentati, l'aeroporto di Zaventem è pronto per tornare in funzione, ma non prima di sabato. La riapertura è frenata da uno sciopero della polizia aeroportuale che chiede maggiori misure di sicurezza, come l'aggiunta di metal detector all'ingresso e il divieto di sosta per le auto a 100 metri dal terminal. Gli agenti denunciano inoltre la presenza di almeno 50 simpatizzanti dell'ISIL tra i lavoratori nello scalo e affermano che gli attentatori avevano mandato dei loro emissari a fare ricognizioni a Zaventem prima di passare all'azione. Dell'opportunità di nuove misure ha discusso ad Amsterdam il Comitato Europeo per la Sicurezza Aerea e i ministri dei Trasporti dell'Unione affronteranno la questione il 14 e 15 aprile nel Consiglio Informale. Intanto gli Stati Uniti annunciano che collaboreranno con la Procura Federale Belga che aveva chiesto l'aiuto di esperti americani per decriptare i file dei computer e dei cellulari dei terroristi. Il Tribunale Belga ha concesso l'estradizione di Salah Abdeslam che sarà presto trasferito in Francia. Secondo uno dei suoi avvocati sarebbe pronto a collaborare con la Procura di Parigi. E un altro nome, quello di Naim Al-Hamed, si aggiunge alle liste di sospettati per gli attacchi di Bruxelles. Il suo DNA è stato trovato nel covo di Scarbeck. Una nuova operazione di polizia franco-belga è stata condotta a Courtrene, il nord-ovest del Belgio, nell'ambito dell'inchiesta su un progetto di attacco sventato in Francia. ma non sono stati compiuti arresti né ritrovati esplosivi o armi.